Salve a tutti! In questo video non tratteremo di amigurumi come al solito, ma faremo un piccolo esperimento. Non so se già ne avete sentito parlare, ma ultimamente sul web è spopolato il barattolo della calma. Appena visto me ne sono innamorato immediatamente e quindi adesso andremo a farlo insieme. Tutto quello che ci occorre sarà dell'acqua, un barattolo, dei glitter ed infine del colorante per alimenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!